E nel prossimo futuro, quali prospettive dalla ricerca? Un gruppo di ricercatori provenienti da sei paesi europei si è posto un ambizioso obiettivo, eliminare nei diabetici la terapia insulinica a vita. In questo momento ci stiamo occupando dello studio caratterizzazione e sviluppo di organoidi pancreatici. L'organoidi pancreatici sono delle strutture 3D che crescono su una struttura di matrigel, di gel, e hanno lo scopo di richiamare perfettamente l'organo da cui provengono. Un organoide si ottiene partendo da una biopsia, in questo caso appunto una biopsia del pancreas, da cui si isolano i dotti pancreatici e con opportune metodologie culturali riusciamo ad ottenere questi organoidi che appunto sono delle piccole sfere che riescono a produrre insulina di tipo B. Il mondo sta affrontando una marcia inesorabile della malattia, ma i malati possono essere curati almeno una parte di loro, con un trapianto, e possono essere ottimisti. Il diabete è molto studiato, attualmente ci sono moltissime ricerche che coinvolgono migliaia di individui e centinaia tra i ricercatori più competenti al mondo. Grazie. 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 Grazie.